USA, i mercati migliorano, ma pesa la crisi nel settore immobiliare. Incertezza per andamento dell'economia nel quarto trimestre. A partire dalla metà di agosto il funzionamento dei mercati finanziari è migliorato, fatto che favorisce una crescita economica moderata con prezzi stabili. Così ha dichiarato il presidente della Fed, Ben Bernanke, che ha tuttavia sottolineato che da settembre gli indicatori economici hanno rinforzato le attese di un nuovo indebolimento del mercato immobiliare, che peserà sulla crescita del quarto trimestre e fino all'inizio del prossimo anno.